Sono molto belli anche quei tutorial che hai fatto per il... Sono utili proprio anche perché... Infatti adesso di quelli lì... Sennò di che era... E' così, sei già in due mondi diversi. Tutti i colori, sono due o tre colori. E c'è la pillera adesso? Si? Si, se non va di là... Infatti ne ho preso una ventina di rocchetti. C'è la pillerone. La solita apertura... della gniacchera. Questa qua è fighissima e velozissima. La cosa scusa, non ho visto comunque cosa l'hai fatto. Gallo, gallo palo, come se non ci fosse un domanda. E poi... Non mi piace... Vilo, c'è uno... Cinco. 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 Vilo. Cattolato. Vilo. 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 Io però se lo voglio dal patigiano non voglio più mica le pignole. Eh no, 50 euro i pignoli no eh, mi disconcentra, esatto. Sì, ma non è colpa del piccolo Gianni, lui dice che è colpa della Uni, colpa del Rocchetto, non è colpa sua, perché il Rocchetto costa 2 euro, non è mica mezza. Anche i Rocchetti da 50 euro. E' un cazzo di 50 euro, poi qua l'ho comprato in uno sport, vado con un'altra colore tra son anch'io. Tutti i colori che te le misure le previ, però son bellissimi colori qua. Dopo ti guarda la macchialata. In effetti comunque sicuramente in acqua riflettono tantissimo. Però vedi, non sono, per la ferra di gom comunque è tutta un fascio di brillantinaggio che... Ma mi piace... Hai uno sport. Mi piace lo spottino, ma anche insomma rimanere un po' serio. Un sacchettino da, tappos, che bello. Figata, pazzesca. Vediamo più a filo possibile. E poi si chiude finché butti giù quel pezzettino. La faccio con la dura tanto per... La faccio con la dura perché è morbida. Con quelle sacche all'aria lì, quel robino lì che viene in sud, si incastra. Ho fatto tutte diverse luce. Questa qua. Faccio con questa. Chi ti sta facendo le colle quando sarà pronto provvedi? Ah, no, non si sa. Non si sa. Anche perché non so neanche se ce la fa. Se la fa bene, se non ce la fa. La corda? Ecco. Scherzo il pedale, scherzo il pedale. Meno male, figa, c'ho l'assistente. Ah, si. C'ho il pedale, in più c'ho anche l'assistente, figa figata. Ma che se vuoi di più? Ma che se vuoi l'accompagnatore. Che l'ha messo adesso? Eh? Ci vuole l'accompagnatore. Si, queste vuole i soldi dell'accompagnamento però. Ciao. Ciao, grazie. Buona? Buona. Buona.